non do let podcast da veterani per patrioti questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor ardito gin distillato con onore buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del non do let podcast oggi il nostro ospite è fabiana ferraro ciao fabiana ciao come stai tutto bene grazie anche tu non sei la prima in questa serie appena rientrata dall'estero in italia ecco questo non lo sapevo quindi è una cosa comune finito di registrare un altro ufficiale che è stato tanti anni nella forza armata poi ha lavorato per una multinazionale e poi andato a combattere in thailandia si è appena rientrato in italia anche lui appena rientrato in italia per chi non ti conoscesse sei un caso un po particolare rispetto alle persone che intervistiamo di solito nel senso che sei un veterano tra virgolette perché facevi parte del comparto soccorso stata vigile del fuoco giusto in italia sì 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 per tre anni hai lavorato un po per i ministeri e poi ti sei arruolata in inghilterra come alla celere tipo no mi sono arruolata come agente semplice agente di polizia e poi mi sono specializzata entrando nella celere con un ruolo specialistico per ordine pubblico ci tenevo a intervistarti sia perché sei il primo vigile del fuoco non sei la prima donna perché abbiamo già intervistato una giornalista e una psicoterapeuta però sei primo vigile del fuoco e la prima donna che in realtà poi ha lavorato all'estero insomma sei un caso un po particolare ci tenevo a fare una chiacchierata un po che ti faccio il filo grazie grazie mille dimmi tu dove sei nata allora io sono originaria di roma e sono nata e cresciuta a roma e poi mi sono trasferita a londra che avevo già 26 anni stando lì per altri 10 fino insomma a pochi giorni fa insomma ok da 0 a 26 anni tu sei rimasta sempre a roma sì sono rimasta sempre a roma e quindi ho sempre anche lavorato diciamo sul territorio laziale ecco come mai vigile del fuoco che studi fatto allora io ho fatto il liceo linguistico e quindi in realtà parlo e scrivo tre lingue bene diciamo la quarta insomma è comprensione principalmente poi ho iniziato la facoltà di scienze politiche all'università di roma 3 però purtroppo ho dovuto abbandonarla per problemi personali ma l'università è sempre stato un sogno che poi ho realizzato insomma qualche anno fa all'università di portsmouth dove mi sono laureata in risk and security management però i vigili del fuoco è sempre stato un sogno di infanzia diciamo da quando ero bambina io a 12 anni volevo fare il vigile del fuoco anche se non avevo la minima idea che all'epoca le donne non fosse permesso però nessuno me l'ha detto di che anni parliamo 90 parliamo del 98 forse le prime sono entrate in forza armata in quel periodo credo che fosse l'anno 2000 quando sono iniziate esatto però ecco all'epoca nessuno me l'ha detto e così ho continuato diciamo a sognare questa cosa non sapendo che non fosse possibile e ho cominciato insomma a lavorare verso quell'obiettivo riuscendoci poi all'edà di 21 anni ma i tuoi che dicevano nel senso che era non l'hanno presa benissimo ti vedevano qualche altra professione più non so stereotipata più idonea alle donne esatto quello in primis ma più che altro no mi vedevano più che altro come interprete quello era la loro idea per la mia professione ecco perché anche linguistico eccetera eccetera perché il vigile del fuoco e non polizia così giusto perché avevo perché i pompieri paura non ne hanno sì il pompiere paura non ne ha esatto sicuramente mi affascinavano tantissimo le altezze era una persona che diciamo amavo le sfide ecco quello sì mi piaceva tantissimo l'idea di aiutare il prossimo perché comunque avevo questa idea della figura di questo eroe che andava a salvare le persone quindi era più orientato all'aiuto del prossimo proprio poi ho avuto anche un'esperienza quando ero piccolina c'è stato un incendio nel mio palazzo sono stata portata giù da da un piede alto questa cosa abbia influito che ti è rimasta così tanto probabilmente sì poi sicuramente ho un animo abbastanza spericolato amante del pericolo a me piacciono i pompieri io trovo che siano una bellissima specialità se ne parla sempre poco perché poi si vedono poco nel senso a livello mediatico magari sai l'esercito la polizia i carabinieri tendono a vedersi di più se ne parla di più i pompieri in realtà ce n'è sempre bisogno io ho una percezione che a livello anche di magari social si vedono un poco diciamo che stando poi nel corpo quegli anni che ho avuto la fortuna di starci loro fanno un lavoro stupendo tantissimo lavoro dietro le quinte e molto silenziosamente quindi ci sono pochi grazie spesso anche dalle persone li ho visti lavorare tanto io ho prestato servizio un qualche anno in ambulanza e loro intervenivano sai no come funziona quando non si può entrare nelle case sai fughe di gas così entrano sempre prima loro come in maniera anche posso dirlo circense perché li ho visti saltare dal balcone arrampicarsi fa delle robe che è un po' borderline dal punto di vista della sicurezza tra l'altro non in tenuta propriamente ginnica perché poi hanno gli stivali quelli particolari il nomex non è facile muoversi e dimmi hai fatto un concorso pubblico con la ferma prefissata no praticamente era un concorso sì per vigile discontinuo e quindi praticamente ho fatto il corso e ho superato quello c'erano tante ragazze no immagino no l'epoca assolutamente no no e io ho avuto la fortuna di lavorare con un contratto particolare di sei mesi sei mesi on sei mesi off ok mi ha consentito di cedere anche al ministeri e poi di lavorare anche in quell'ambito non solo quindi nell'ambito operativo in partenza ma anche proprio a livello ministeriale quindi ed era una cosa insomma abbastanza inusuale principalmente succedeva a roma che è la capitale dove appunto ci sono i ministeri c'era la possibilità di avere questo tipo di continuità facevi lavoro da caserma o ti facevano uscire ho fatto di tutto devo dire è stato molto formativo perché ho fatto di tutto ho lavorato alla direzione centrale per la formazione a capanelle aiutando il direttore per la formazione quindi occupandomi proprio dei corsi e di tutto quello che era anche l'amministrazione poi ho lavorato in partenza quindi normalmente in partenza sia alla stazione tuscolana all'eur ti posso fare una domanda scomoda il materiale umano nel senso le persone come vedevano l'ingresso delle donne credo storicamente per la prima volta nei reparti un po più operativi come ti trattavano praticamente ho avuto diciamo dei mentor che credevano parecchio in me erano uomini ovviamente che si sono anche battuti diciamo per farmi fare le prime esperienze inserirmi in diversi settori in particolare della parte dal lato operativo il mio primo giorno in partenza ricordo bene perché ero nervosista purtroppo la squadra ha deciso di scioperare perché c'ero io quanto donna ok era diciamo metà dell'ottocento quindi era periodo una suffragetta era il 2008 allora non era il periodo storico giusto diciamo avete aperto la strada quello sicuramente ecco mi ricordo che il capo squadra dovete chiamare insomma raccolta per negoziare e convincere no dobbiamo comunque uscire ci sono convinti si sono convinti dopo questo intervento nel quale io praticamente sono entrata appunto in questo purtroppo in questo edificio dove c'era questo signore molto anziano che era deceduto e avendo visto insomma che non avevo avuto problemi nel trasportare il materiale era era l'ottavo piano di un palazzo quindi trasportare il materiale all'ottavo piano e poi nell'avere a che fare con il cadavere e poi insomma tutto quello che ne conseguiva posso spezzare una lancia a loro favore nel senso non credo che siano tutti i casi di sessismo io credo che loro volessero tutelarsi temendo che tu non riuscissi ad assolvere i tuoi compiti come un uomo anche 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 potenzialmente sì anche penso quelli più intelligenti abbiano temuto quello quello diciamo è un timore diffuso un po' in tutti questi ambiti ecco però devo dire una volta che finito questo intervento sono diventati insomma immediatamente molto disponibili amichevoli nuovamente quindi sono stata diciamo accettata tra virgolette nella squadra esatto e ho avuto una cosa simile quando sono stata inserita nell'ufficio tecnico essendo stata lì la prima donna in quella divisione che era la divisione dell'ufficio tecnico del comando centrale di via genova e tutte le altre donne avevano rifiutato perché non volevano essere le prime e quindi il responsabile dell'ufficio discontinui chiamò me perché sapeva appunto riconoscere il mio carattere quindi ho accettato immediatamente sì assolutamente arrivo sono la prima benissimo hai un bel ricordo sì bellissimo si sia uno dei periodi più belli della mia carriera in assoluto più felici e poi in realtà vedevo qua adesso spipolando il tuo profilo linkedin che per tanti anni fino alla polizia hai fatto quello che adesso forse è stata anche un po' d'avanguardia è fatto osint intelligence diciamo nel comparto analisi giusto corretto? sì sì era proprio a livello investigativo online ok open source per chi non magari non mastichi la materia che è molto in crescita sì iniziai io quando non si sapeva di certo non in italia non c'era una definizione di open source intelligence io stessa non sapendole dare una definizione diciamo no quindi inizia ad usare i social a scopo investigativo sostanzialmente quando stavo collaborando all'epoca collaboravo come collaboratore esterno per i carabinieri sì e polizia locale e iniziai ad usare i social come strumento investigativo senza poi sapere sarebbe diventata poi una grandissima branca del disciplino investigativo adesso non ho idea dovendo fare delle statistiche ma forse ora sono 50 e 50 nel senso che credo che se debbano fare le indagini o qualcuno volesse fare privatamente le indagini in rete si trova praticamente tutto ora sì esatto sì 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 adesso c'è proprio un'associazione che si chiama IAIG l'associazione italiana analisti di intelligence e geopolitica abbiamo avuto dei contatti in realtà racchiude un po tutti gli analisti di intelligence quindi anche la tua branca quella dell'osint poi ci sono tante tanti settori dell'intelligence quanto tempo hai fatto questo mestiere diversi anni più o meno da quando mi sono congedata dai vigili del fuoco che era il 2010 fino praticamente al mio arruolamento in polizia perché poi ho continuato anche a londra e come mai hai deciso di lasciare l'italia perché la maggior parte delle volte per un'offerta economica migliore quelli che conosco io generalmente il tuo caso o sì nel mio caso era più che altro la precarietà lavorativa perché comunque io lavoravo sempre su collaborazione e non c'era veramente mai uno sbocco no che desse un minimo di sicurezza quindi questa professione comunque anche l'investigatore che fosse osint o l'investigatore tradizionale non veniva comunque cioè non era una professione veramente riconosciuta lavoravi a contratti quindi a progetti sì esatto sì sì a collaborazione occasionale poi anche per un discorso formativo perché ripeto in italia non c'era comunque la possibilità di formarsi a nessun livello su questi ambiti proprio lo stesso settore dell'intelligence con tutte le sue branche che può essere l'analisi o l'investigazione o la parte accademica cioè non esisteva proprio all'epoca quando io sono andata via dall'italia che era il 2012 perché uk e perché polizia allora in realtà c'è stato un po un twist of fate come lo chiamiamo noi in inglese è successo sostanzialmente che ho fatto un'application per la green card per andare negli stati uniti perché comunque avevo già collaborato con gli stati uniti in passato però non ho ottenuto la green card strano sono di manica larga e quindi quell'opzione è stata scartata l'australia era decisamente cercava un paese anglofono perché già parlava parlavo inglese chiaramente e l'australia l'ho scartata per motivi di lontananza e di migrazione di nuovo anche lì e quindi è rimasta londra che era comunque era europa unione europea è ancora europa ma era unione europea e lì fanno arruolare gli stranieri sì 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 allora inizialmente in realtà devo dire l'esercito inglese mi aveva messo gli occhi addosso perché si può fare una cosa che in italia non c'è no è come in america credo esatto che se ti arruoli fai un tot di ferma poi ti agevolano la cittadinanza allora nell'esercito dovevi comunque essere cittadino mentre nella polizia no però che è successo che sostanzialmente io mi stavo laureando all'epoca quindi si è andata per studiare in primis sicuramente quello era uno degli obiettivi sì anche perché lì era possibile anche studiare in modo ibrido online ho visto anch'io mi sono candidato qualche anno fa per la tua stessa università e loro hanno proprio delle lauree per chi lavora esattamente infatti mi hanno chiesto una lettera di presentazione dal mio dottore di lavoro e loro riconoscono le skills annullandoti degli esami sì assolutamente esatto poi non l'ho portato avanti perché non è economica come soluzione rispetto alle italiane costicchiava farlo a distanza e quindi io poi ho ripiegato su una italiana però c'è questa possibilità per chi fosse interessato alla tua università lo fa e tu sei andata lì a studiare fisicamente andavi in ateneo? no 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 io ho fatto tutto online andavo fisicamente un paio di volte l'anno la mia università al dipartimento di criminologia più grande di tutto UK se non di Europa io ho avuto la fortuna poi all'epoca essendo Unione Europea di avere anche un prestito per le tuition fees che sono le diciamo per le tasse e come funziona il meccanismo perché queste cose magari interessano ai giovani assolutamente sì adesso non so come funziona dal Brexit ci sono ancora delle possibilità di prestiti da parte del governo sostanzialmente tu continui a ripagare in base a quello che tu guadagni se non guadagni non lavori non paghi niente e se guadagni un tot in busta paga ti detraggono una piccola rata dalla busta paga ogni momento hai finito di pagare? no ancora no no su serio? il costo è elevato come hai giustamente no no immagino sentivo i ragazzi negli Stati Uniti mi dicevano insomma anche 30.000 40.000 dollari per gli studi ah sì sì assolutamente polizia sostanzialmente appena arrivato ai UK l'esercito britannico mi mette gli occhi addosso dicendomi che sono molto interessati a degli specialisti OSINT forniscono tutto il materiale per arruolarmi eccetera eccetera però purtroppo succede che viene cambiata una clausola per quanto riguarda la domanda per la cittadinanza quindi io perdo un anno che purtroppo era l'ultimo anno utile per arruolarmi per il limite di età quindi perdo questa occasione l'idea iniziale era quella di entrare come ufficiale nell'esercito tramite la mia specialità come diciamo la riserva selezionata in Italia che prende delle professioni prendono ingegneri avvocati dottori quindi a quel punto il piano B è stata la polizia ah ok è stato un lavoro di ripiego in un certo senso sì vabbè non ci sei rimasta poco però insomma hai fatto tanti anni no 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 quasi sei anni sì arruolano i non cittadini arruolano assolutamente sì i non cittadini l'unico requisito è che devi avere tre anni di residenza ah ok tu eri studente no no io ero lavoratrice ho iniziato subito nel panorama delle investigazioni online ah ok ho preso una qualifica come investigatore osint accreditato presso la mia università come ti hanno accolto gli inglesi in generale come donna e come straniero come ti sei trovata? io devo dire noi penso cioè dico noi nel senso perché io sono anche inglese non solo solo italiana sono più avvezzi sì è probabilmente il posto posso dire al mondo con le più evolute libertà civili valori di parità e sono i British values penso siano conosciuti in tutto il mondo e non penso c'è nessun altro paese che abbia dei valori di uguaglianza parità e meritocrazia come noi sinceramente c'è opportunità per tutti basta volerlo in pratica quando ci siamo sentiti poi la prima volta eri ancora un agente e in realtà mi dicevi che facevi una vita molto operativa poi vabbè coi giusti step moltissimo perché tra l'altro mi hai raccontato delle cose che generalmente non sono propriamente da donna comunque anche chi frequenta magari gli stadi o conosce la celere non è pieno di donne celerine ecco questo è stato probabilmente il ruolo più duro che ho avuto sì in tutta la mia carriera devo dire come i battaglioni dei carabinieri penso sì l'equivalente sarà più o meno quello noi eravamo un corpo specialistico che interveniva tutto quello che era sia manifestazioni preorganizzate ma anche di alto profilo come per esempio abbiamo coperto la visita al presidente Trump all'epoca Buckingham Palace la mia ultima missione è stata Glasgow per il COP26 che è stata la conferenza sul clima dove c'erano comunque tutti i leader del mondo e quella è stata la mia ultima missione con la celere praticamente ho capito facevate stadio? anche sì sì beh io sono stata alla finale degli europei quando c'è stata quell'invasione di campo dello stadio e io ero lì insomma hai manganellato lo possiamo dire adesso hai manganellato sì 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 sei congedato decisamente grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com non do let podcast da veterani per patrioti non do let podcast da veterani per patrioti non do let podcast da veterani per ciò non do let podcast da veterani per dichotico